Mi sembrerebbe che chiudere le trasmissioni radiofoniche porta fortuna. Non immaginavo tante persone, immaginavo maestro Bernardini sei perfetto, grazie per le belle parole, a volte quando mi si presenta mi viene voglia di andarvi a rileggere per vedere se è vero quello che ho fatto. Ho visto l'Umbria in settembre, assopita nel silenzio, ancora ardente del paesaggio. L'ho vista in aprile, nel suo glorioso risveglio, sorridente o stanca, la sua bellezza mi è apparsa uguale, ugualmente intensa, la sua vita morale. Col maestro Bernardini, che sottolinea con il mattino di Grieg, dico bene maestro? Sì, il mattino di Grieg, compositore nato a Foligno, no, norvegese. Io ricordo al maestro Bernardini, è la mia punteggiatura ironica, perché io credo che serietà è una cosa, seriosità è un'altra. Serietà è una cosa e serietà significa cercare di fare seriamente il proprio mestiere. Seriosità è l'accademia dalla quale provengo, è l'accademia nella quale sono tornato, che pretendeva sempre e costantemente tutto il contrario di quello che si fa per potersi far capire dal pubblico. Si parla con termini difficili, ecco qui non sono difficili, ho visto l'Umbria a settembre ed era un po' più cupa. L'ho vista ad aprile ed era gloriosa nel risveglio. Patrizia Cavalieri che è in seconda fila, che è quella che da sempre non soltanto mi sopporta ma mi supporta in tutte le ricerche, e adesso guarda in terra perché non vuole essere citata. Noi abbiamo preparato questa serata sull'acqua e ci siamo chiesti con il maestro Bernardini, per entrare dentro, poi sì parleremo di Ovidio, sentiremo Petrarca, magari andremo su Dante, ma anche Angles Mastretta, quindi siamo anche nel Sud America. Però l'acqua è un tema troppo interessante, è finito anche in musica leggera. A proposito, mi si percepisce bene in fondo, chiedo? Sì, perfetto. Anche Bernardini? Perfetto. Hanno detto no, però va bene. Se dicono no vuol dire che sentono no. Ah, perfetto. Quindi, lei continua con questa punteggiatura ironica. Di acqua ce n'è poca nella musica leggera, di pioggia sì, per esempio, maestro. No, per esempio. Maestro, stanno già sorridendo nelle prime file, scende la pioggia, acqua è ovviamente, ma se io le dico, maestro, un canone di Pachelbel, diventato nel 1968 un successo strepitoso degli Aphrodite Child, Rain and Tears, quindi pioggia e lacrime. Prima faccia il canone, poi Rain and Tears. Vediamo se non usciamo. Prima. Ci provi. Ma ricordate? Pensate che questa, adesso sto facendo impazzire chi mi segue, ma va bene così, a volte mi si apre quella, a volte mi si apre questo. Questa fu la canzone che accompagnò il 68 francese. Perché? Perché gli Aphrodite Child, e questa è la storia che a volte si prende gioco di se stessa, la radio interruppe le trasmissioni per dare notizia del maggio francese e ricominciò le trasmissioni con questa canzone, Pioggia e lacrime, e tratta, pensate un po', dal canone di Pachelbel, quindi musica classica scritta da un sacerdote. Ed è paradossale immaginare che la musica classica scritta da un sacerdote possa diventare la colonna sonora del 1968 nel quale io esistevo. E invece la storia fa queste storie. Non solo, ma cantata da greci, stiamo parlando di Vangelis ovviamente, di Sideras, di Vapatanassiu, del grande trio che erano gli Aphrodite, i figli di Aphrodite, Demis Russos, chi l'ha mai dimenticato. Ma se io le dico, Raindrops Keep Falling On My Head, di Bart Bacharach, un altro abbastanza grande, com'era? Those raindrops keep fall on my head, piccole gocce su di me. E queste sono la pioggia. È inutile aprire il capitolo mare, per quello che riguarda la musica leggera, come è profondo il mare, il mare d'inverno, il mare d'inverno che è di Ruggeri, cantato da Lambertè. Dunque, qualora voi pensiate che noi ci siamo preparati, state sbagliando, non è così. Io qualsiasi cosa richiedo a Bernardini, lui puntualmente lo fa. Tu sei dentro di me come un'alta marea. Non viene voglia di cantare. È vero, eh? Io non lo faccio, eh? Il 23 comunque siamo in scena con Venditti, proprio, nemmeno a farlo apposta. Ma se vado all'acqua, maestro Bernardini, 1969, io sono convinto che tra poco tutta quella, quanti siete, veramente siete tanti, la intonerà presso a lei. Mi faccia anche un minimo di chiamata di pianoforte, quando dico acqua azzurra, acqua chiara. Non so, finalmente bene. Naturalmente la seguite, la conoscete, acqua azzurra, acqua chiara, non c'è nemmeno a dire. Però se io dico dolce acqua, magari è meno. Qualcuno di voi ricorda dolce acqua? Ma che silenzio. Nemmeno io. Ci provi, delirium, i vanno fossati. Oh na, oh na, na, naso. E vede? Oh na. Oh na, 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 era questa. Quella è che ci riesce. Torce acqua. E va bene. L'abbiamo fatta. Forse non vi aspettavate tutto questo. No. 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 Maestro. Quando la luna è in la 7th house, e Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets. La riposicete, sì? Vedete la potenza evocativa dell'acqua e della musica. Questo è Aquarius, 1967. Mentre l'America mandava le cartoline per combattere in Vietnam, i ragazzi bruciavano le medesime cartoline non volendo andare a combattere in Vietnam. E nel giugno, no, giugno, 8 gennaio, sono sicuro, 1168, gli americani, 67, sferrano un'offensiva sul delta del Mekong. A ottobre, Ragni e McDermott mandano in scena Broadway hair, dove si teorizzava il contrario, capelli lunghi, remitenza alla leva, non combattere, ma soprattutto voglio fare l'amore e non fare la guerra. Con quel simbolo che si contrapponeva le bandiere americane, scoprendo una cosa che in molti non sanno. Questo fare l'amore e non fate la guerra non è un portato del 1968. E negli inni orfici, quarto secolo dopo Cristo, si dice le stesse identica cosa. Marte, Dio della guerra, tieni nel fodero la spada, Venere, Dea dell'amore, fai in modo che i giovani si incontrino, 1600 anni prima di Ragni e McDermott e il suo hair con quel LED sunshine in, eh sì, ce la fa maestro. LED sunshine in, lascia che il sole entri, il sole e l'acqua. Sono due temi apparentemente contraddittori, perché il sole fa evaporare l'acqua, ma se non ci fosse il sole a far evaporare l'acqua non si chiuderebbe il cerchio. Ma l'acqua e il mare, e il mare spesso è tempesta. E dopo aver portato il pubblico dentro a questa, con questa maniera forse non rituale, però qualcuno mi venga a dire che tutto questo non è cultura, io non credo che sia nel giusto. Allora facciamo quella cultura con la C maiuscola, che quando è soltanto ripetizione di stilemi non serve a nessuno. Leggere l'Eneide, senza capire profondamente che cosa c'è dietro all'Eneide, non serve a nessuno. Conti querom nessi intenti, quona te ne maninte troppa, te re ne assi, corsus ammalto, infandolo e gina, iubes renovare dolore. Sì, va bene, è bella. Non dico di no. Ma perché è stata scritta? E' stata scritta per la, certo, per rendere trionfo alla casa Giulia, quindi per fare in modo che Augusto avesse il suo successo grazie anche ai media di allora, perché lo scrittore è un medium. Non solleva i tavolini, ma fa in modo che porta in piazza tutto questo. Ma che cosa racconta l'Eneide? Racconta dei profughi, di chi scappa dalla guerra, di chi è costretto a scappare perché un esercito lo insegue, perché ha avuto distrutta la casa, la patria e i ricordi. E ha bisogno di andare a cercare un dove, altrove. Dove? Da oriente verso occidente. E' costretto a lasciare quella troade, Troia, Isserlic. E venire da noi. Ma vi ricorda qualcosa? Vi ricorda qualcuno? Vi ricorda pagine che stiamo rileggendo oggi? E come denominatore comune di tutto questo, ovviamente c'è l'acqua, in questo caso l'acqua del mare. Primo veicolo di comunicazione. E nessuno si sognava allora di mettere steccati, fili spinati. Ma non creiamo un mondo buono e buonista anche allora. Perché anche allora chi cercava asilo da noi non trovava gente che li accoglieva con il sorriso sulle labbra. Però la storia ci dovrebbe insegnare che cosa? Che Enea è costretto a combattere per avere una patria nuova. E al tempo stesso lui non comanderà. Ma la generazione dopo Enea, quindi il figlioletto Ascario, Iulo, con lui nascerà un mondo nuovo. Nascerà Roma. E la Romanità. Allora voi mi direte, questa storia letta così può servire a capire il nostro passato, il nostro presente, il nostro futuro. Sì, può servire a questo. Deve servire a questo. Questo non significa che non ci siano stati conflitti. Questo non significa, pensate, Enea è costretta a combattere con i latini, con i rutuli di turno. Però poi che farà un matrimonio, legherà le due, i due popoli differenti. Quindi l'amore, ecco, l'amore di prima, porterà una nuova civiltà. Quell'era dell'acquario, when the moon is in the seventh house, che stiamo aspettando da allora. E non è un caso che anche Virgilio, nell'Eneide, pensa che sta per arrivare un qualche cosa di nuovo sulla Terra che porterà luce, pace, benessere, tranquillità. Sì, arriverà la pazza augustea, però sappiamo che purtroppo l'uomo non è solito mantenere questo tipo di pace. E soprattutto perché la pace la si conquista, purtroppo, combattendo. In questo caso, con i rutuli, l'ho detto, ma soprattutto con le forze del mare. Rileggiamola così, l'Eneide. Libro primo. Sta andando materialmente la sua flotta sul mare, sull'acqua. Ed è l'acqua porta la vita, il mare porta la vita, la pesca, ma porta anche la morte, con le tempeste. Mettersi per mare, sapete, si viaggiava soltanto d'estate. No, lì si è costretti a viaggiare comunque, perché si scappa dalla guerra. È morta la moglie, Creusa. Lui deve cercare altrove, il suo dove, il suo star bene. C'è una pagina strepitosa, secondo me, che fa vedere la prima grande battaglia dell'uomo che sta scappando, quella contro il mare, contro l'acqua. Guarda, maestro, ne abbiamo attraversate di tempeste. Enea vede il mare montare davanti a sé. Il mare che è stato calmo fino in quel momento. Il mare che lo ha secondato. Ma per uno scherzo, Giunone vede dall'alto le navi e dice, ma come, questo si salva, questo è un mio nemico. E va da Eolo, il dio dei venti, che sta dentro una grotta, che senza avvisare il suo superiore, Nettuno, scatena una tempesta contro Enea. E lui, che ha superato la morte, che ha sconfitto, se vogliamo, la paura, ma è diventato padre non soltanto di Iulo, ma di tutta la gente che ha intorno, che sta scappando per mare, sull'acqua, con le navi, e dice, Ma come, ma non potevo morire in battaglia, anziché morire nell'acqua, come uno stupido. O mille e mille volte fortunati, qui il destino consentì di morire sotto gli occhi dei padri e delle alte mura di Troia, Ottitide, fortissimo tra i danei, fossi io caduto sotto la tua destra e lasciata là quest'anima sul suolo di Ilio, dove riposa Ettore, il prodetto uccidato da Achille e il glorioso Sarpedonte, là dove il Simoenta trascina e ancora erode sotto le onde Elvi, Scudi e resti dei nostri valorosi eroi. Così, così il Pioenea maledice, quando investe la vela a fronte e spinge la repentente furia di Aquilone, si bilando e rimanda l'onda alle stelle, i remi si frantumano, la prua che si svia espone la fiancata ai cavalloni, giunge in precipitosa colonna d'acqua come una montagna dalla cresta dei frutti, i pensolanti sono alcuni, per altri l'onda si apre sul fondo, dove si scopre, vorticante, la sabbia. Tre navi, Noto spinge e fa cozzare contro le locce a repentacqua e tre euro dall'alto scaraventa su secca ad arenarsi nei fondali e le inchioda e le recinge con cordoni di sabbia. Davanti agli occhi suoi, un'onda enorme dall'alto San Valanga sulla poppa di quella che portava Ilici e Oronte, e Oronte sbalestato a testa in giù precipita il timoniere. L'onda fa ruotare tre volte su se stessa la nave e poi l'inghiotta nel vortice. La nave gira per tre volte, la tempesta fa vedere la sabbia addirittura, l'acqua si sposta, si vede la terra, ma è una terra in fida, una terra che ti uccide. Muore Oronte, il compagno di sempre. Ma guardate quanto è strana la storia anche in questo caso. Maestro, non è prevista. Mi faccia riascoltare Céline Dion con Titanic, perché è simile. Non c'è... Mi fa piacere che partecipiate e si partecipi anche sorridendo. Riflettiamo un momento. Inizio del Novecento. Il secolo lungo e breve. Il secolo che ha visto l'uomo dire io sono più potente, quasi più potente di Dio. Al punto che costruisco un mezzo, se movente, il Titanic, oltre 300 metri, inaffondabile, che nulla può contro l'acqua. E questa è l'ironia della storia e della sovite. Questo mezzo inaffondabile che nulla può contro l'acqua, si va a schiantare il primo giorno, il secondo giorno della sua inaugurazione, contro cosa? Contro l'acqua. Contro l'elemento primordiale. Contro quello da cui tutti quanti noi deriviamo. Contro quello di cui siamo fatti al 70-80% secondo gli studi di quelli che sanno più e meglio le cose di quelle che le posso raccontare io. Ed è un simbolo evidente. All'inizio del Novecento, quando l'uomo si sente invincibile, quando poi è in grado per tutto il secolo di scatenare guerre mondiali, Shoah, distruzione, bomba atomica, quindi una bomba in grado di distruggere quello che l'uomo ha costruito, l'uomo si schianta contro l'acqua. La macchina più poderosa dell'uomo di allora si schianta contro un iceberg, quindi contro la forma privilegia. Era un simbolo che il Novecento non ha saputo cogliere. Il Novecento era lanciato verso il macchinismo, era lanciato verso il progresso. Guai a immaginare un qualche cosa senza progresso. e la natura, per chi crede in Dio, io appartengo a questa categoria, dice con chiarezza, fermo, fai tranquillo, tu non puoi essere come me, tu sei soltanto un uomo. E nel corso di questo secolo, 55 milioni di morti della Seconda Guerra Mondiale, qualche milione della Prima Guerra Mondiale, gli ebrei trucidati nella Shoah, e via, discorretto. Tutto questo era scritto sulla parola Titanic, Titano. Noi siamo tutti naviganti. Maestro, naviganti. Che destino al marinaio? Avevo un parente, dato via tanti anni fa, che era stato capo di Stato Maggiore della Marina e amava il mare come pochi, come tutti i marinai veri, che non stanno sulla terra, stanno nell'acqua. e raccontano sempre che cosa, quando stanno, pensate quanto è curiosa la vita di un marinaio, quando è imbarcato, ha nostalgia della terra. Quando è a terra, ha nostalgia di quando è imbarcato. quindi vive due vite e l'Umbria lo sa perché è abbracciata e circondata dal mare, no? Questo è Egisto Malfatti. No, però attenzione, perché, Patrizia, noi avevamo un nostro amico che ci seguiva durante le trasmissioni, che era un grande capitano di marina mercantile, ricordamelo, che era, eh vabbè, me lo ricordo io, che era Umbro e ha fatto tutta la carriera sulle navi. Ma queste, ma sono queste curiosità storiche di storia moderna. Sentite quanto è bella questa. Marinaio. Marinaio. Inquieto Marinaio, che già dal tuo primo viaggio ti portasti la casa dietro per raccontarla ai compagni di viaggio, che già dal tuo primo ritorno li portasti dietro la barca per darne immagini ai tuoi parenti, che sino a quando il mestiere avrà bisogno delle tue braccia vivrai nel tuo eterno vagabondare. soltanto la metà di ogni cosa. Vivere la metà di ogni cosa è il destino del marinare. Ma forse è il destino di tutti noi che navighiamo, navighiamo la nostra vita. Vivere la metà di ogni cosa, avere sempre il rimpianto per quello che non c'è. Io penso che quando simpaticamente non si rimpiange più qualcosa abbiamo finito. Quando abbiamo progetti da fare, quando progettiamo, facciamo questo, facciamo quello, siamo vivi. E poi si passa altrove. traghettati, anche in questo caso, su un fiume, l'ostige, l'acqua, che segna il passaggio da un mondo all'altro. Dal mondo dei vivi al mondo dei non vivi. Con tanto di caronte. Certo, a volte chi fa i traghetti è simpatico, perché io ho visto che esiste un traghetto, Patrizia, che si chiama caronte. io non lo prenderei. No, perché si paga anche un pedaggio e chi ha fatto l'archeologo sa che spessissimo chi trova le tombe nelle tombe, nella bocca, c'è una monetina nel defunto, nel morto, si metteva una monetina in bocca che era l'obolo da dare a caronte. Lo vado a consegnare a caronte. Delle due luna o vi siete tutti addormentati o la cosa vi interessa. E' questo. Maestro che... Ah, vede, lei mi porta dentro. Maestro sta segnando il Ci vuole un'altra vita di Franco Battiato, un nostro amico da sempre. Me l'accenna un momento proprio nel pieno quando canta Ci vuole un'altra vita. Ma sì. Anche a lui, eh? Anche a lui. Anche a lui. Perché voi non vedete la faccia. Voi non vedete la faccia. Quando io gli dico mi accenni questo perché poi ci diamo un lei rigoroso da vent'anni quando invece è evidente che è una finzione scenica si ritrae perché non è... C'è... perché adesso... Senti, l'acqua è blu, maestro. L'acqua è blu. L'acqua è blu. L'acqua è blu. Nel mare. Un signore che si chiamava George nel 1926. No. Sì. Sì. Sì, sì. Sì. Fai. Le dita non sono le parole. 40 secondi. non sono è qualche anno che lavoriamo insieme queste cose ecco, quel discorso di prima se uno si entusiasma su cose che succedono adesso e non erano previste vuol dire che ancora c'è speranza però parlavamo di tempeste ne abbiamo attraversato i tempeste e abbiamo visto la tempesta ci vuole un'altra vita perché? c'è una pagina di Lucrezio stupenda ricordate? comincia con l'inno a venere il secondo libro Ene adum genetrix hominum divomque voluptas quel divomque è stupendo perché è divom quindi è arcaizzante Lucrezio parla come avrebbe parlato Ennio è questo tanto per far vedere che anche noi abbiamo studiato anche noi abbiamo insegnato all'università ma queste cose servono e non servono secondo le circostanze se uno vuol creare le distanze si mette a parlare in latino il latino di Manzoni se uno invece vuole calarsi dentro materialmente queste cose le racconta per poterle raccontare ecco, c'è una pagina stupenda in cui Lucrezio racconta che è bello vedere qualcuno che si dibatte in una tempesta ma non perché godo nel vedere quello a negare ma perché io dico, vedi, sto meglio quindi sono contento del presente ci vuole un'altra vita e lo dice Lucrezio prima che farà un combattiato maestro, dai è dolce quando sull'immenso mare i venti sconvolgono la distesa dell'acqua in quei momenti è dolce osservare dalla terra la grande e penosa lotta di un uomo non perché quel tormento sia una gioia e un piacere ma perché è dolce vedere da quali mali si è indenni è dolce anche guardare i grandi scontri di guerra con gli eserciti schierati nella pianura senza aver parte alcuna nel pericolo ma niente niente è più dolce che occupare gli alti spazi sereni fortificati dall'altrina dei saggi e dall'assù poter guardare gli altri vederli errare qua e là a cercare a caso la via della vita rivaleggiare con l'ingegno gareggiare con la nobiltà di nascita sforzarsi notte e giorno con instancabile fatica per levarsi fino ai più alti gradi di ricchezza e impadronirsi del potere o spiriti infelici degli uomini o cuori ciechi tra quali tenebre della vita tra quanti pericoli passa questo poco tempo che ci è dato come dire noi navighiamo guardiamo la tempesta guardiamo un uomo che si dibatte nella tempesta e gioiamo del nostro star meglio ed è la stessa cosa di quando noi stiamo in alto e vediamo quella marmaglia di gente che si agita vorrei il potere vorrei il successo vorrei la ricchezza fare pettegolezzi per fare in modo che quello lì possa cadere detesto queste persone che per affermare se stessi parlano male degli altri non avendo una vita propria raccontano quella degli altri è evidente che è così ecco in tutto questo sistema di pensiero che non è pensiero ma è un sistema quotidiano com'è bello stare fuori da questo tipo di tempeste che non è mare ma è un mare di turpitudine è un mare di nefandezza è un mare in fido ma come poter parlare maestro di acqua quando un signore che adesso è all'esbo sto parlando del papa ha tirato fuori scoprire la bellezza della natura fare in modo che la natura che abbiamo trovato o ci è stata data venga in qualche maniera anche conservata quel signore è Francesco in questo caso è Francesco D'Assisi che faccio parlare in Umbria di Francesco D'Assisi è quasi incredibile però quanto è bello riscoprire tutte le bellezze che lui stesso vede come quello che abbiamo detto all'inizio ho visto l'Umbria a settembre era un po' addormentata l'ho vista ad aprile era rigogliosa di feste maestro viri in quell'alto Rizzortolani dolce sentire qui com'è dire eh eh laudato sì mi signore persona la quale è molto utile è umile è preziosa è casta laudato sì mi signore per frate focu per lo quale in allumi e notte et ello è bello et iocundo et robustoso et forte laudato sì mi signore per sola nostra madre terra la quale ne sustenta et governa e produce diversi frutti con coloriti fiori et et erba laudato sì mi signore per quelli che perdonano per lo tuo amore et sostengo in firmitate e tribulatione beati quelli che il sosterranno in pace e cadate altissimo sirano incoronati laudato sì mi signore per sola nostra morte corporale dalla quale null'uomo vivente può scappare guai a quelli che morranno nelle peccate mortali beati quelli che troverà nelle tue santissime volontà ti che la morte secunda non farà male laudate et benedicete mi signore et ringraziate et serviatili con grande umilitate e sentite grazie comunque grazie veramente perché eh non mi aspettavo sì anche perché non avevo parlato con nessuno non è una captazio benevolentie questo è sardo antico è captazio benevolentie sardo arcaico non avendo parlato con alcuno perché ho infilato realmente ero già venuto a Foligno qua con la radio se non sbaglio proprio qua eravamo qui eh Patrizia lo ricordo tanti anni fa tanti tanti e per cui l'ho messa a martellate tra un impegno e un altro ma sono ben lieto di averlo fatto a questo punto anzi molto lieto di averlo fatto grazie ma anche noi sentite quanto è bella questa storia prima eh quando sono entrato prima 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 e abbiamo provato il pianoforte il maestro Bernardini questo un po' di dietro le quinte non conosceva questa 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 canzone che poi è una canzone di Claudio Baglioni legatissima all'Umbria lo sapete da sempre aveva due nonno pizzica e nonno fante che erano i due suoi nonni adottivi con i quali lui passava le vacanze estive in Umbria questa è una è una canzone che sta se non ricordo male 1978 in tu come stai ed è ancora la pioggia cadrà che cos'è è una storia d'amore che finisce in un suicidio nel senso che lui si lascia morire nel mare quante volte Claudio gli ha detto guarda che questa esiste metamorfosi Ovidio Ero e Leandro Ero è una sacerdotessa Leandro ovviamente è il suo spasimante non potendosi frequentare perché lei è sacerdotessa si dà un appuntamento al buio di notte lei è in una torre e guardate che questo è un topos Bernardini è un topos un topos dove? ecco lo sai e beh è del 16 questa io l'ho chiamato perché me l'aspettavo perché siccome si addormenta lui al pianoforte del topos no il termito polino si basta eh torniamo ancora la pioggia cadrà Spidi Gonzales adesso si basta va bene Ero e Leandro sono sono Leandro per vederla attraverso a nuoto ogni notte le l'esponto le l'esponto Byron scriverà una tragedia su questo e il simbolo è una fiaccola accesa in cima alla torre per dire sto dentro ci sono vieni mi a trovare ma questo è che il topos di prima la fiaccola naturalmente la immaginate si spegne lui pensa che lei sia morta Giulietta Romeo 400 anni di Shakespeare muore si uccide lei non vede arrivare lui lo scopre morto e si uccide anche lei e la storia di sempre la trovate rimbalzante ovunque in ogni storia e qui c'è l'esponto che è fatta come un denominatore Ero e Leandro per l'appunto l'uragano l'uragano spietato spense la lampada infida e l'anima e l'amore dell'infelice Leandro Ero ancora indugiava con occhio insonne si ergeva flagellata dall'angoscioso affanno quando venne la figlia del cielo l'aurora ma Ero non vedeva lo sposo e da ogni parte volgeva gli occhi sull'ampia distesa del mare semmai vedesse lo sposo in rabbondo nuotare anche se spenta la fiacola ma quando ai piedi della torre vide Leandro morto sfracellato sugli scogli Ero stracciando la tunica bella che le cingeva il petto a forza si gettò a precipizio dall'alta torre Ero morì sul morto Leandro avvinti l'un l'altro si strinsero nell'ultimo abbraccio e ancora Ovidio le metamorfosi era Ovidio anche questo e questo è sempre Ovidio nelle metamorfosi racconta tutte queste storie belle perché poi sono il mito altro non è che il nostro specchio lo specchio delle nostre contraddizioni lo specchio delle nostre passioni Ciane Ciane chi è Ciane? Ciane è una divinità che si oppone si oppone si oppone a Saturno si oppone al passaggio perché doveva impedire un altro dei tanti matrimoni voi sapete Giove Zeus benché avesse Giunone non disdegnava di andare cercando altrove ecco le storie dei miti sono anche queste tutte le contraddizioni i tradimenti le litigate queste divinità ha portata ad uomo sono uomini però un po' diversi no? Ciane si oppone a uno dei tanti tradimenti della divinità ma che cosa può fare contro la divinità? niente è come il Titanic la divinità ti ricorda tu stai al posto tuo io sto al posto mio per cui opponendosi la divinità la trasforma in una fonte scioglie le sue membra e la fa diventare un fiume e tutti i fiumi quasi tutti i fiumi della nostra terra anche quelli nella parte dell'altra parte dell'emisfero hanno sempre una divinità all'origine perché l'uomo giustamente deve spiegare quest'acqua che scorre che è un po' come la sua vita no? è gorgogliante ricca e chiara alla sorgente si intorbidisce scendendo va a morire del mare in tutt'altra forma ed è impossibile tornare indietro e quell'acqua non può tornare da dove è partita mentre parlava Ciane allargò le braccia per opporsi al passaggio il figlio di Saturno Ade non trattenne più la sua ira e spronati i tremendi cavalli fece ruoteare fortemente col braccio lo scettro legale e lo lanciò giù verso il fondo del lago al colpo la terra si schiuse aprendo un varco verso il tartaro e i cavalli precipitarono a capofitto nel cratere che gli accolse frattanto Ciane angosciata per il rapimento di Proserpina e per la violazione brutale della sua fonte portava dentro di sé una ferita insanabile tanto che si consumò fino a fondersi in quelle acque in cui era stata la prima divinità era visibile l'ammollirsi delle sue membra il flettersi delle ossa il fiaccarsi delle unghie le prime a mutarsi in liquido furono le parti più fine e leggere i capelli cerulei le dita le mani i piedi il loro passaggio fu più facile poi le spalle la schiena i fianchi il petto tutto perse consistenza e scivolò via in rivoli sottili infine l'acqua prese il posto del sangue vivo nelle vene svigorite e non restò più nulla che si potesse stringere tra le mani questo è watermark enia pezzo stupendo watermark per l'appunto perché poi l'acqua ne troviamo tanto maestro io scopro adesso che siamo vicini alla fine però ho la sensazione che non è proprio quello che dovremmo fare la brutta sensazione per cui siccome appunto li vedo assorto il pubblico e lo vedo tutto sommato io direi di andare avanti un po' no? eh? direi di andare avanti un po' e lasciare il finale avanti un po' maestro prenda quel pezzo meraviglioso di pagina 21 stiamo parlando di Ennio Flaiano lei tanti non pensi a me io adesso per Flaiano posso parlare fino domani alle 5 quindi ho tutto il tempo che vuole la letteratura si occupa spesso di pioggia di acqua che viene a portare eccolo vabbè lo posso cambiare no 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 va benissimo lei mi fa la strada sul pezzo di Flaiano va benissimo invece Nino Rota no? questa è ovviamente la dolce vita no? la ricordate no? beh Flaiano è lo sceneggiatore di Fellini per eccellenza Flaiano viveva vicino al mare e questa nonostante l'Umbria abbia prodotto Fior di Poeti e Francesco D'Assisi io dico sempre che il mare quando arrivi davanti al mare tu lasci al mare i pensieri arrivi pensieroso e i pensieri li mandi al suo mare e il mare ti restituisce i ricordi perché cominci a guardare il mare e ti viene in mente un altro mondo un altri mondi e così via ecco lui ha scritto la dolce vita a Fregene che è una piccolissima località a nord di Roma sul mare proprio a Maccarese sempre col maestro Bernardini sabato prossimo saremo anzi da venerdì poi saremo a fare delle serate ovviamente gratuite non faccio pubblicità a nessuno e Fregene è il classico piccolo borgo marinaro oggi non più ma a quei tempi c'erano dei pastori abruzzesi che svernando durante la transumanza poi si erano fermati vicino al mare quindi il mare li aveva attirati avevano rinunciato di essere pastori e erano diventati materialmente materialmente non lo devo dire ma lo so erano diventati materialmente delle persone legate al mare beh a settembre non c'è niente di più bello di vedere il primo temporale che porta via l'estate quindi l'acqua che piove sull'acqua del mare e porta via l'estate lì non c'era più niente ed è un'altra è un'altra stagione perché ancora c'erano le poste quindi ci si scriveva tra innamorati no? mandami una lettera ricevo la tua lettera e quando arrivava il primo acquazzone tutto quello che prima era un pullulare di gente diventa invece torna ad essere il piccolo borghetto marinaro di qualche tempo prima e questo è uno dei raccontini che è prima della stesura della dolce vita siamo nel 58 la dolce vita del 60 la stagione era finita chiusa e più che dal tempo che si manteneva sereno Adriano ne aveva conferma da piccoli fatti che lo colpivano più dei grandi si sprangava il chiostro delle bibite poi quello dei giornali e dei cappelli di paglia il bartabacchi del paese aveva rimesso i tavoli dove prima erano i bigliardini ed esso erano occupati tutto il giorno da gente che giocava a scopa piegando le carte come tegole e buttandole giù di schiavito giocavano il bagnino il giardiniere il fornaio il ragazzo che portava il pane nelle ville un giorno piove e allora fu di colpo l'inverno con i bambini nelle loro vecchie giacche e l'ombrello e gli uomini dietro le vetrine dei negozi deserti che guardavano la strada allagata dietro i vetri della boutique la signora elegante piegava le stoffe e le gonne il postino trovò vuota la buca delle lettere e guardava dentro di sotto e in su per vedere se c'era un guasto la stagione era diunque finita sa che le dico maestro noi abbiamo creato adesso glielo dico con parole mie visto che il mio il mio ospite è stato così carino da ricordarla noi abbiamo centrato tutta la nostra ricerca sulle parole no non è questo che cosa sei che cosa sei non è questo maestro maestro prenda la pagina 23 si tratta di Pablo Neruda e piano piano tanto è prumentori è prumentori è prumentori vedete le parole sono importanti questo grande Riccardo Neftali così si chiamava Reyes Riccardo Neftali Reyes Pablo Neruda prendeva il nome da un combattente per il lavoro no? Pablo Neruda dice una cosa bellissima in un pezzo stupendo il pezzo sulle parole noi in fin dei conti abbiamo riempito di parole mare di parole non faccia fiumi di parole è vero perché io lo so doveva parlare ecco io volevo io volevo essere più serio va bene maestro Berradini ma siamo seri lo stesso e non seriosi dicevo un mare di parole nelle parole c'è tutto io lo dico sempre la parola detta bene anzi prima che quello che dico io una signora che si chiamava Emily Dickinson poetessa diceva testualmente c'è chi dice che quando è detta la parola muore io invece dico che quando è detta la parola inizia a vivere nella parola c'è tutto oggi purtroppo noi usiamo parole per tutto oggi avete fatto caso si cammina con si chiama iPhone vero? perché è ancora un telefonino dei tempi di Romolo e Remo e invece e si comunica si comunica continuamente si comunica ma non si parla più si comunica ma non si parla più mentre mentre nella parola c'è tutto Neruda che si schiera ovviamente dalla parte degli autoctoni vede non vede lui ma sa che la sua terra è stata conquistata da chi navigando viene gli spagnoli e portano la loro civiltà su terra altrui non è Enea e conquista questa è un'altra cosa conquista che impone la lingua ma Neruda prende la lingua prende le parole e prendendo le parole prende la capacità di parlare raccontare e anche comunicare tutto quello che vuole sì signore ma sono le parole che cantano che salgono scendono mi prosterno dinanzi a loro le amo mi ci aggrappo le inseguo le mordo le frantumo vocaboli amati brillano come pietre preziose saltano come pesci d'argento sono spuma filo metallo rugiada inseguo alcune parole sono tanto belle che le voglio mettere tutte nella mia poesia le afferro al volo quando se ne vanno ronzando le catturo le pulisco le sguscio mi preparo davanti il piatto le sento cristalline vibranti e burne vegetali oleose come frutti come alga come agate come olive e allora e allora le rivolto le agite me le bevo me le divoro le mastico le vesto a festa le libero tutto sta nella parola tutta un'idea cambia perché una parola è stata cambiata di posto hanno ombra trasparenza peso piume capelli sono antichissime recentissime che buona lingua è la mia che buona che buona lingua abbiamo ereditato dai viechi conquistatori loro loro andavano a balzi per le tremende cordigliere per le americhe increspate cercando patate salsicce fagioli tabacco nero oro e mais uova fritte con quell'appetito vorace che non si è più visto al mondo trancuggiavano tutto con religioni piramidi tribù idolatrie uguali a quelle che portavano la loro legione nei loro sacchi dovunque e dovunque passassero non restava pietra su pietra ma quei barbari dagli stivali e dalle barbe dagli elmi dai ferri dai cavalli come come pietruzze cadevano le parole luminose che rimasero qui su questa terra splendenti la lingua che buona lingua è la mia fumo sconfitti ma fumo vincitori si portarono via loro e ci lasciarono loro si portarono via tutto e ci lasciarono tutto ci lasciarono le parole andiamo andiamo a chiudere con due brani acqua e acqua la ricordate? che bel pezzo lui è Trevor Jones Trevor Jones nell'ultimo l'ultimo dei Moicani colonna sonora ho studiato molto bene ma ricordate Francesco Petrarca chiare fresche dolci acque è stupenda perché perché dietro c'è una storia se volessi minimizzare tutta la poetica di Petrarca si può riassumere indite a Laura che l'amo ma non è così 1348 Laura sposata con figli muore di peste la peste nera del 1348 Petrarca prende la peste e sopravvive suo fratello va da lui Petrarca sposato con figli ma non con Laura questo con buona pace di chi pensa che l'amore sia un qualche cosa da incasellare sempre lo stesso no non è così si amavano e questo amore di Petrarca è incredibile va a suo fratello da Petrarca e gli dice guarda è morta è morta di peste no non è possibile non è morta non ci credo guarda che è morta la vuole andare a vedere la va a vedere e scrive pochi versi ma che secondo me sono stupendi perché chiama come si è sempre fatto la poesia deve dire qualcosa il mio amico Bruno Lauzzi gli diceva spesso il poeta si deve far capire perché se scrive ermetico francamente scrive solo per se stesso e allora chiama racconta che cosa l'acqua il cantico delle creature vedete l'acqua il vento il sole e dice voi ancora avete la fortuna di poter di aver avuto lei lei si bagnava in queste acque in queste chiare fresche dolci acque in quel ramo su quel ramo si appoggiava faceva da colonna quel tronco al suo corpo e quindi io non ho più questa fortuna ora la vedo qui bianca pallida ma non è no non può essere morta perché è bellissima non può essere morta per nessun motivo è solo addormentata no è morta e allora recuperando la poesia delle origini perché se voi leggeste un poeta egiziano parlo del tempo dei faraoni e non del tempo di Alsisi ma oppure un poeta andino parlo dei tempi prima che arrivassero i colonizzatori troverete che il paragone che l'uomo fa con il suo amore è legato proprio all'acqua sei bella come il fiume o sei bella come il sole il mio amore ricorda le nuvole e Petrarca recupera questo e lo recupera così chiare fresche dolci acque ove le belle membra pose colei che sola me pardonna gentil ramo ove piacque con sospirmi di membra a lei di fare bel fianco colonna ebbe e fiorche la gonna le giadre ricoverse con l'angelico seno aere sacro e sereno ove amor come gli occhi il cor ma perse date udienza insieme alle dolenti mie parole estreme pallida no ma più che neve bianca che senza venti in un bel colle fiocchi pare a posare come persona stanca quasi un dolce dormire nei suoi begli occhi essendo lo spirito già da lei diviso era quel che morir chiama gli sciocchi morte bella parea nel suo bel viso e ce ne andiamo così non con Petrarca ma con quell'altro Dante quando ho visto la locandina virtute e canoscenza abbiamo immaginato questa virtute e questa canoscenza dove avviene dove si conquista la virtute e la canoscenza si conquista sull'acqua superando le colonne o vercole segnò i suoi riguardi a ciò che l'uomo più oltre non si metta non superare mai le colonne d'Ercole non andare mai dall'altra parte perché c'era il purgatorio questa montagna che era scappata perché l'angelo trasformato in diavolo era caduto sulla terra e la terra era scappata via creando il purgatorio dall'altra parte questa cosmogonia di Dante è estremamente efficace ma efficace soprattutto l'Ulisse e torniamo al Titanic di prima torniamo alla nave di Oronte alla nave che gira tre volte su se stessa mentre l'acqua vortica si vede la sabbia e va in fondo tutto questo perché andiamo a vedere cosa c'è di là andiamo a vedere che cosa è nascosto all'uomo virtute e canoscenza e allora sentiamo l'Ulisse anche lui che viaggia per mare anche lui in questo caso uno dei vincitori che però non torna a casa anche questa è una storia strana sapete il mito qual è lui è costretto marinaio navigante avere sempre metà della vita che rimpiange l'altra metà a girare per il mondo fino a quando poi arrivato lontano in quella che era oggi la Russia non conoscono il remo che porta sulla spalla e pensano che sia un ventilabro quello per far vento e dicono ecco a questo punto tu puoi morire c'è sempre questa ricerca continua di virtute di canoscenza e c'è sempre questo mare che evidentemente fa da da comune denominatori a tutto e allora lo immaginiamo lì sulla tolda della nave con i suoi compagni davanti non erano così tanti erano molti di meno vecchi e stanchi c'è la possibilità di andare a vedere di là che cosa c'è c'è la possibilità di capire cos'è questa virtute cos'è questa conoscenza c'è la possibilità di toccare con le mani quello che nessuno ha mai toccato che facciamo ragazzi non ci andiamo e noi ci andiamo e comincia a parlare ai suoi compagni così o fratelli che per centomiglia perigli siete giunti all'occidente a questa tanto piccola vigilia dei vostri sensi che è del rimanente non vogliate negare l'esperienza direttamente al sol del mondo senza gente infatti non foste a vivere come bruti ma perseguire virtute e canoscenza i miei compagni feciosi aguti con questa orazione piccola al cammino che appena poscia li avrei ritenuti e volta nostra poppa nel mattino dei remi facemmo ali al follevolo sempre acquistando dal lato mancino tutte le stelle già dell'altro polo vedea la notte e il nostro tanto basso che non sorgea fuori dal mare in suono cinque volte era acceso e tante casso l'olume era di sotto dalla luna poiché entrati eravamo nell'alto passo quando dapparve una montagna bruna per la distanza e parve mia alta tanto quanto veduta non aveva alcuna noi ci allegrammo e do sto tutto il pianto che dalla nuova terra un turbo nacque percosse del legno il primo canto tre volte il fe girar con tutte l'acque dalla guarda levar la poppa in suso e la prora in giù ma altrui piacque infinché il mar fu solo noi richiuso maestro Maestro Bertandini, maestro, vieni su, vieni su, vieni su, vieni su, vieni. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.